Nuova operazione antidroga dei falchi della squadra mobile dall'acquistore di Cagliari che hanno scoperto una coltivazione di marijuana allestita all'interno di un capannone industriale e arrestato una persona. Gli agenti hanno compiuto un blitz che ha portato all'arresto di Filippo Cavazzini, 30 anni di Cagliari, accusato del reato di produzione, detenzioni illegali e sostanze stupefacenti, detenzioni di arma clandestina e relativo munizionamento. I particolari dell'operazione sono stati resi notti stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata in questura da Roberto Pitito, dirigente della squadra mobile. Gli agenti, a seguito di notizia investigativa, hanno deciso di procedere a un controllo dell'abitazione del giovane, situata a ridosso di un capannone industriale. Nel corso dei controlli i poliziotti hanno scoperto che nel box dolce a ben occultata era presente un'apertura che consentiva di accedere al capannone industriale. All'interno della struttura è stata trovata una serra artigianale dotata di tutti gli strumenti per la coltivazione indoor della marijuana, lampade alogene, pompe di calore e ventilatori. Erano tutti collegati abusivamente alla retta elettrica. Sono stati trovati 500 vasi disposti su 12 file, all'interno dei quali erano presenti delle piantine di cannabis di altezza variabile tra i 10 e i 25 centimetri. Sono stati trovati anche i rami secchi di marijuana, segno che la serra aveva già prodotto stupefacente. Inoltre nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto una pistola calibro 7,65 con la matricola Brasa e circa 150 proiettili di vario calibro. Dopo le formalità di rito, Gavazzini è stato rinchiuso nel carcere di Uta e messo a disposizione dall'autorità giudiziaria. Grazie. Grazie.